Oh mio dio, non voglio fare ciò. No, non venire lì. Bello! Vai, tre. Mi chiama mio padre. Ma fuck. Bello a tutti ragazzi, io sono Gigi Gamer e questo è il mio migliore amico, Giorgio Gaming. E oggi siamo qui su... Oddio, un girasolo visuale, non volevo. Oh! Vabbè, va benissimo così, via! E oggi siamo qui per fare... Oh, la mia voce è tornata normale, bello. Perfetto. Per fare il pollo da un euro contro il pollo da 10.000 euro su Minecraft, signori. Non dovrei far vedere qua dietro, è un brodio, vabbè. Guardateli, quanto sono maestosi. Sono delle swag barche di pollo. Iniziamo dal pollo povero, andiamo a vedere gli interni. Tagliafino. Sono entrata assai disagiante, che ti aveva il voglio di piangere. E' uscita, io ne ho. Prego. Qui che sono... Le ceste sono vuote. Oh no, i tuoi mi hanno invaso, sono riusciti dal mio recinto. Qua c'è il cammino del pollo. Pieno di pollo. Oh, un letto brutto. Dei quadri. Come si è messo? Un pollo del cesso, no? Sì, è pieno di pollo comunque. Questo è il cesso e, come vedi, la privacy è al primo posto. Esatto. E poi qua ci sono delle piantine che però si è andata a male, perché qua non abbiamo l'acqua. Ah, questo è un divano comunque, non è una montagna di letame. Ah, ok. Buono a sapersi. Quindi se ti ci vuoi vedere. Ho comunque fatto con letame, quindi non cambia niente. Vabbè, vieni. Nomenare casa mia. E adesso, signori, il pollo da... Ah, è anche il cammino. È un pollo a vapore, questo. Eh, infatti. Guardatelo in tutta la sua maestosità, da tutti i lati. Da qua, è bellissimo. È una barca. Ok. È stramaestuoso, ciò va bene. Adesso il pollo da 10.000 euro, le entrate dal collo. Tagliafica è già entrato. Tagliafica è cattivo. Si sa cosa avrà fatto, sto cretino. No, ma vai dietro. Vai, vi far vedere cosa fa. Sì, sì, sì. No, quella è il tocco finale, tagliafico, smettila. Guardate qua, tutto bello arredato, pieno di armor stand, armor enchantata, lui si fa pisciare. Qua, shulker box perché le cesti sono per poveri. Viene di roba bella. Letty, anvil e si va a comandare. Illuminazione molto, noice. Dove fai i bisogni? Ma chi se ne frega, cagli in erano, un po' in questo non è mi concesso, no? Questa è una sala per stare fermi, in modo piacevole. E qua invece c'è il tocco finale. Zii, premi questo pulsante. Vai, continua. Wow, that's actually really nice. Stagliafico, smettila di assorbire la cacca del pollo. Sì, comunque hai sbagliato, io ne ho, vabbè. Perché? Non dovevi fargli cagare diamante, dovevi fargli cagare uovo, così era molto più sensato perché cagano uova d'oro. Era un pollo ricco. Questo pollo è più ricco, cagano uova di diamante, cubiche. Perfetto comunque, qua c'è il garganazzo del pollo, in bella vista. Ah, il garganazzo del pollo è potente. Check this out. Beh, comunque nei commenti, che saranno i miei ed Italia, bisogna scrivere quale pollo è il più bello. Pollo 1 o pollo 2? Il 2 è quello ricco, da ricordarsi che poi, 3 si fa berbello. Ricordatevi, allora, questo è l'altro piscia, cioè. Allora, per un'altra intro così imbarazzante questo video deve raggiungere almeno 25 like. Se volete altre intro imbarazzanti. Quindi, come vedete, mescete un pollo in su. Pollo a testa in giù. Perché abbiamo fatto questo video? Eh, I don't know. Perché copy Lion. No, è proprio quello il butto. L'abbiamo fatto. Per ironizzare su tutti quei video che stanno girando adesso su YouTube. Sono milioni. Tutti quelli di cose da un euro contro cose da 10.000 euro. Cioè, io... Fatemi capire. Hanno finito. Fatemi capire il senso. Se qualcuno nei commenti mi riesce a far capire il senso, mi iscrivo al suo canale. Non ci riuscirete. Sono un bravo. È impossibile. Perché magari delle cose che si utilizzano, magari fai vedere la qualità. Perché li sui di diamante, ma in Minecraft, in Creative, dove il diamante non make no fucking sense. Esatto. Non ha senso. Perché... E poi sono rude, dicendo... Perché se tipo fai un oggetto che tu usi e che fai la differenza di qualità, ci sta. Però se fai in Minecraft, non ha senso, capite? Cioè, io posso fare anche belino da un euro. Versus. Guardatelo lì. Belino da 10.000. E capite che... That's no make no fucking sense. Eh, non c'è utilità, è più lungo quello da 10.000. Sì, è vero. Questo è vero, è troppo tozzo via. Beh, comunque l'utilità era questa. Sì, più o meno l'utilità è like this. Quindi, signori, smettetela di guardare quei video. Smettetela, vi prego. Perché sicuramente se avete guardato questo video, vuol dire che avete guardato anche altri di questo genere. perché l'avete visto dal titolo, l'aveva piaciuto. E prima di tutto vi consiglio di piantarvi un coltello nella trachea che fa sempre piacere. E piantarlo in un pollo, tanto quello non subisce. Sì. Tanto non hanno la trachea perché... Hanno il gargarozzo. Mi cattate un po' di pelle morte. Se senti dal gargarozzo qua. Senti il umore di fondo. Ciò è molto giusto. Vabbè, comunque, signori, smettetela di dare visibilità a questi video per piacere, perché... Dai. Capiteci. Piuttosto guardate i miei fan di Montage, che almeno fanno ridere. Almeno secondo noi, non ci insultate, please. Eh, torna al barbone. Ma rientra nella tua capanna da sprozzo. Tagliafico, vuoi finire di nuovo proprio lì? Nel buco parafernale? P***o. È morto. E fu così che finì anche il video. E fu così che finì anche il video.